musica come vedi a sinistra ci sono i padini che te lo fanno capire quando non vedi nessun'icona è perchè stai giocando sulla stessa console del capo del club la precisione sto professionale comunque lo sai che poca gente si mette a tilted di chi fa le streaming perchè? perchè comunque è un rischio potretti morire o no ed è difficile da tenere tilted ma tilted secondo me è più divertente perchè inizi subito no sicuro ti fai capire sei già nell'azione magari tu pensi anche forte forte qua e là non tanti lo fanno, a parte ninja non tanti rischiano così devi semplicemente avere la confidence c'ho il chug buono ah marzo sei te si sta infiorando tutto mamma mia l'ho scopato ma dove state voi? se avessi dei materiali raga io voglio hackitare una cosa da mostro ok? voglio hackitare una cosa proprio da infame l'altro è sotto di me a terra uno è qua è qua ragazzi accanto a me c'è mai neanche uno sopra eh? l'ho fatto l'ho fatto sopra di me eh? no io lo ando ok vengo sopra di te ok bravo dove stare? non ho più materiali ho 9 golpi e non ho più materiali raga arriva 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 mi pusha mi pusha bravo ok 50 cent mi aveva pushato madonna raga questi push in un botto sono quattro e stanno pushando la casa L merda oh mio dio ce l'ho davanti dico un attimo la cosa no lo fai safe per favore si eh eh è un po' merda cosa che posso fare è essere qua io devo fuggire non ho più materiale questo è un problema c'è uno qua dentro raga uno qua il veicolo mi pare da aver visto raga sto scappando al palazzo dove siete voi non posso fare niente mollo non so come restarti non ti preoccupa qua dentro è andato delio riesce a camperarti? uno mi pusha no è meglio si fight io non mi ha preso la pozza io c'ho un chug eh tanto adesso muoio però lo vedo uno infatti c'è un altro qui bella sopra 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 come sopra? uno mi ha sparato dall'alto ah vabbè boh non lo so mi è arrivato un colpo dall'alto infatti beh chiudemose un secondo vado a prendere il chug da mollo mamma mia mi dispiace mollo è un pere gant c'è mica problema si dopo guardo la clip di ninja dopo la guardo ci sono pozzate qua fuori io c'ho una c'è ma intanto c'è quota di scudo mamma mia che fatica c'è un R blu o un R verde? non l'ho visto io c'ho un R blu non ricordo male nooo la mia vita è una merda no si fermo nasconditi lì arriva eh lo so c'è le trappole magari eh non posso passare che c'è la porta se c'è delle trappole abbiamo vinto no no appena ti rianimo spacco sta no 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 non spaccare non spaccare che non ci hanno visto eh metto le trappole metto le trappole eccoli via 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 esci fuori esci fuori ho fatto il buco ho fatto il buco bro merda 5 è entrato tocca ad uno state sotto di me è dentro la casa qui a ovest è dentro la casa uno eh l'altro mi pusha non so dove cazzo sto sotto sotto è toccato uno quello sotto non so dove sia l'ho visto mamma mia che cazzo stiamo a fa bro porca putta allora riachiepamose ti serve qualcosa qualsiasi cosa con cui mi posso curare guarda già sta pozzetta fa comodo allora dove sei tu? vedo che hai 49 di scudo io? no c'è quanto what the fuck? ho una pozzetta brother oh che cazzo thank you woo ah non so cosa è successo raga 30 hp madness proprio partito il disagio allora io voglio andare a raccattare qualche oggetto curativo se ti dico la verità perché c'è sì forse è il caso ho un occhio intanto qui cazzo lì ancora c'è una cassa comunque e mo dobbiamo giocare lenti non possiamo pushare perché siamo in due sopra c'è una cassa ok la provo ad andare a prendere ti fai ta no root lake si eh io ti dico quada mai quada mai quada mai quada sotto casa di mattoni c'è gente merda bello sono dall'altro lato io pusha bravo si ma non c'è il jug buono tiratelo tiratelo tiro su eh certo no tiratelo subito tanto quando abbiamo il momento poi per tirarlo non ce l'avremo mai 15 secondi sono abbastanza senti io voglio andare a lootare la cassa che avevo sentito prima perché può esserci roba buona inizio ad andare ti lo aggiungo vai tranquillo mi conviene comunque salire sopra e adesso che arriveranno quelli dalla zona si no ma poi ci arriva la gente da noi fra poco quelli che arrivano da ovest io voglio prendere sta cassa proprio veramente con tutto me stesso salite sul condominio dei mattoni dai dai che belivo dai che belivo bello bellissimo se lo portavo oh niente ho flashato e andiamo a vedere verso loot lake che dici si 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 può stare si può stare io sono sotto eh così e dici ecco da sopra posso avere una visione migliore ce l'ho davanti ce l'ho davanti madonna ah ma che cazzo l'ho rotto ma ok non male se ci sono materiali li prendo volentieri cappa tutto un cazzo ci servirebbe un lanciagranata e un lanciarazzi assolutamente eh sì ma sarebbe abbastanza useful tutto a posto wow baina grazie mille per la sub e benvenuto ad pg333 sgat it bro ora ci devi dire anche perchè hai fatto la sub io mi puzza un pochino che nessuno c'è arrivato da dietro verso di cazzo ne mancano 40 ma 40 40 persone no sono tantissimi raga raga la prima che abbiamo fatto a pinnacoli sono troppi e c'era gente a pinnacoli eh perchè porco gente stavano alle scale di escire a pinnacoli vediamo un po' va ragazzi questo gameplay vediamo di ci dobbiamo prendere una posizione in alto e studiare un pochino come fare perchè non possiamo pushare troppo aggressivi dato che non abbiamo cure rapide ok parlo di fronte a noi vai 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 sono pronto andato? andato anche quello? ho fatto pure quello sdreiano si abbiamo fatto tutti bravi raga eccolo in mezzo è morto noccato noccato si è informato quindi si noccato dove stai mirando? alla tua sinistra 90 gradi alla tua sinistra 1 e 90 gradi alla tua destra hitato due volte torna indietro torna indietro c'è gente sia a sinistra che a destra così stanno dietro la macchia della polizia ho capito non sanno dove sei eh comunque non l'hanno proprio capito vabbè uno bravo lì dovrebbe essere l'ultimo sta arrivando Delu attento che ci sia venuto dietro eh ma infatti Delu costruisce velocissimo per giocare sul console ragazzi prima lo stavo guardando c'è andrà abitità e fa paura ok un'altra è pure dietro di me no il compagno non dov'è dov'è l'ultimo che ha sparato penso sia dentro o sinistra sinistra ah no è proprio dentro grande saliamo sopra per controllare che dici rubo tutto c'è un medic il game dobbiamo salire sopra Delu perchè qualcuno gli ha sparato no io sentivo qualcuno che gli sparava sicuramente c'era qualcuno penso che era dove guardavi te prima su dove? eccolo lo vedo no non è vero cos'è un palo che cazzo è? sembrava vero una persona ah ne vedo uno in fondo stanno andando a l'aerotrop citato? eh da stas... non arrivano i golpi sono in tre eh? sono in tre regà sono arrivano i golpi da sta distanza andiamo? no 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 c'è un cecchino mmmm ti direi di no ti direi di aspetta un... o alletto qua a destra aspetta no non arrivano si mi so ah no lì si lì arrivano si lì arrivavano cerchiamo di prendere un knock da qui giù ma io mi voglio guardare intorno anche lo sai c'ho un po' di paura ora ah infatti uno dietro uno dietro c'è ragione pure te c'è uno qua con l'anciarazzi che voleva pottermi in culo merda due 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 pure da destra lì sotto l'hai visto? pure da sinistra eh siete circondati raga vi conviene darvi non c'avete una cosa? infilando il soldo bravo prova a darmi in occhio se ce la fai se non sei free arrivo ce l'hai sotto? l'ho dettato una volta sotto i deti vuole far crollare tutto mi sa si è chiuso? un 4 si merda un 4 un secondo eh un secondo prima è cascato quel l'ho caduto uno bravo un altro dietro l'altro ok thank you ok thank you mi sto dando vita perché sennò non ti riesco a dare la mano si sta prendo tutti eh se li sparati in due secondo me potete farcelo non mi vedono adesso appena esco mi salgo salgo su occhio non mi vedono non mi vedono siamo da dietro veramente una cosa incredibile devi andare la in mezzo pure tu si lo so lo so non posso perdere tempo qui intanto ancora ho tolto lo scudo a uno esattamente lì bravo bello quel razzo un andato un one shot un altro bravo cazzo ti ha tolto quello dov'è? non lo so sotto di me dietro di te mi tiro il chug curateli mi tiro il chug mi tiro il chug perché c'è un team al devolt arrivano gli altri da dove hai costruito tu c'è lo scaroro qua mo lo vengo a prendere mo lo vengo a prendere devo prendere i materiali li ho finiti per fare queste cose mi guardo dall'alto io eh si senti secondo me dobbiamo giocare per per poccare cioè li dobbiamo far fightare va bene ancora come ora si sono quelli di prima oh qua pozzette porti i medikit tu porti le pozzette eh si ho già i medikit ne ho già due medikit allora ok qua ci sono altri due di medikit eh chiappo ancora ti do i razzi a te ti do i razzi a te aspetta che tolgo anzi sai che ti dico no mi sei bloccato il gioco ok prendo il lancio grande io vai quanti razzi hai se ne hai tanti ne ho 28 tu quanti ne hai eh 5 vieni vieni facciamo a metà ho sceso pure il loot dietro ok io ho bisogno di materiali li ho finiti cazzo eh tieni 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 grazie te lo ok gente che ci guarda lì da eh quello il lo so ci sta guardando quello? non lo so se mi sta guardando no quello lì è la parte sopra però c'è gente lì eh si è la scala tipo tagliata a metà quella si vedi toccavano un altro era sotto eh lo so lo so lo so sono di più di uno ok andiamo 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 avviciniamoci dentro di bot al massimo dentro di bot non c'è nessuno ok allora andiamo là dentro eh non ci dovrebbe essere nessuno tanto adesso la zona gli va a sfavore quindi uno di quelli è già morto si c'è dentro uno stanno sparando approfittatene raga ora o mai più si ora o mai più c'ha ragione dai uno lo vedo uno lo vede in mezzo a nulla è entrato nell'ultimo coso nell'ultimo di bot visti 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 ma stanno sopra o sotto lo vede sotto uno c'è davanti scusami ci spavano pure da destra dai andati andati bravi regà ne manca un è salito è salito wow chug 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 ok l'ultimo team ah no a posto siamo full l'ultimo team ne manca anche uno però eh li ho visti si stanno fightando si stanno fightando si stanno fightando è il momento di agire ora avete una pedana mi prego riesci a prenderlo tu il chug? o te lo stai tirando? e poi medikit che faccio? eeeh vabbè sti cazzi sti cazzi sti cazzi non avremo mai il tempo di tirarlo tanto ma manco il medikit mi sa eh lancia razzi di delu io sto sparando power ci dobbiamo avvicinare ci dobbiamo avvicinare brother ma è anche partitone bravo dai lo vai dai lo continua così ok sto tirando giù bravo bravo apri pure la cassa se vuoi ci ha ci possiamo provare ad attaccare sul loro palazzo e ci chiudiamo va bene vai 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 ti aspetto io ho ne visto uno saltando lì lo vedo sotto 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 ecco uno sopra occhio merda fai safe? non so come fare al check in automatico stai lì stai lì sta pushando andrà a sinistra tua eh si è buttato si è cascato morto bravo ok quelli crollano eh butta di giù uno più a destra uno più a destra dietro verso la casa di mattoni no potreste andare a fare quello qua 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 da dietro la collina eh voglio vedere dove stanno quelli grande bella sta scala ma uno sa in fondo dove c'è il palo della luce palo elettrico lo vedo lo vedo mi copre e prova a fare quello lì quello si è costruito ed è scappato però erano in due eh quindi te hai visto quello dietro ma dai ma com'è cazza fatta vieni qua che c'è le pozioni lo vedo ma one shot one shot uscito fuori dalla safe non cado dalla storm non cado dalla storm ok gg si il culo mi sto dando il chag e in moto vai allora il tizio è a 41 uno c'ho le pozioni sono in due lì eh ok ok 41 dovrebbero essere in due se non sbaglio ho un med io ho due colpi di lancia cazzi e basta se c'avete una pedana ricordatevi la zona lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo è nel quadrato a sinistra dove? quadrato a sinistra ha sparato si è dovuto buttare andiamo c'ho pure di quelli a sinistra io fightano si fightano no lo so lo so lo so c'hanno i cecchini lo cado? bravo dai cazzo porco giuda che cazzo di game abbiamo fatto deluxe vedi qua festeggiamo cazzo twitch money baby io ti faccio pure la danza quella quella irlandese dai cazzo 24 kill let's go vabbè non ti preoccupare per altri gameplay facci una chiamata porca droga che game abbiamo tirato su deluxe che partitura ma ci siamo divisi e te ed è successo il disagio porca droga è lì era rischioso però ce l'abbiamo fatta minchia mamma mia ggwp wooo bravi bravi tanto di cappella quanto di cappella che tanto di cappella no che che dice Grazie a tutti